Scatta domani l'obbligo del Green Pass nel mondo del lavoro. Scopriamo insieme le modalità operative, intanto sono previsti subito disagi nel trasporto pubblico. Continuano i controlli sul Green Pass da parte delle forze dell'ordine nei pubblici esercizi. Ieri sera chiuso un pub in centro a Rimini per assembramenti e multato un ristoratore a Miramare. Oggi in Basilica la solenne concelebrazione per San Gaudenzo preseduta dal Vescovo, che nell'Omelia auspica una città più umana e più vivibile. Riccione si prepara a festeggiare il 99esimo compleanno con un doppio appuntamento in musica. Buonasera e bentrovati all'edizione serale di Caro Tg. Scatta domani l'obbligo del Green Pass nel mondo del lavoro e si prevedono subito i primi disagi nel trasporto pubblico. Sono infatti 99 i lavoratori di Start Romagna senza certificazione, 37 dei quali in provincia di Rimini. L'azienda sta cercando di correre ai ripari, rivedendo i turni di servizio, ma fa sapere, difficilmente potranno essere garantite tutte le corse programmate. Priorità a quelle di pendolari e studenti. Intanto nell'immediata vigilia dell'obbligo arriva anche una novità. Nel testo definitivo viene meno, infatti, il limite di 48 ore di anticipo entro cui chiedere la verifica del certificato. Ma vediamo le modalità operative che scatteranno da domani. che potrà essere effettuato anche in anticipo rispetto al momento di accesso. Oltre all'app verifica C19, saranno resi disponibili altri sistemi per automatizzare le verifiche. Dai controlli risulterà soltanto la validità del Green Pass e non le modalità in cui è stato ottenuto, se con vaccino, tampone o avendo contratto il virus. Chi non ne sarà provvisto sarà considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del Green Pass. Nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore e sostituirlo per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta. Il personale privo di certificazione non ha diritto a svolgere la propria prestazione in smart working. Chi accede senza Green Pass viene segnalato alla prefettura che erogherà una sanzione da 600 a 1.500 euro. Sanzioni fino a 1.000 euro anche per i datori di lavoro in caso di mancati controlli. Il Green Pass sarà necessario anche per i lavoratori autonomi che prestano servizio in un'azienda e per quelli che arrivano da società di somministrazione. L'obbligo vale per i dipendenti, pubblici o privati, ma non per i clienti o per i cittadini che accedono agli sportelli pubblici. Coronavirus. Continuano gli aggiornamenti in fotocopia per Rimini con pochi casi e da lungo tempo fortunatamente senza decessi. Stabile anche l'andamento in Emilia-Romagna. Un dato interessante da seguire nei prossimi giorni sarà quello dei ricoveri che lo scorso anno, proprio da metà ottobre, registrarono un'impennata, il servizio. Sono 18 i nuovi casi di coronavirus in provincia di Rimini, un dato che ormai differisce di poche unità tra un giorno e l'altro. In Emilia-Romagna i nuovi contagi sono 196, su un totale di 28.159 tamponi, oggi quasi equamente divisi tra molecolari e rapidi. La percentuale dei nuovi positivi sul totale dei test è dello 0,7%. L'età media dei nuovi positivi resta sopra i 40, oggi 41,2 anni. In testa c'è anche oggi Ravenna con 41 casi. Ci sono purtroppo tre decessi, tre uomini della provincia di Bologna di 80, 83 e 89 anni. Le nuove guarigioni, 195, compensano i nuovi contagi. A oggi i casi attivi sono 15.016, due in meno di ieri, per il 97,6% in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda gli ospedali, i pazienti ricoverati nelle terapie intensive sono 36, 4 in meno rispetto a ieri e Rimini in un solo giorno scende da 3 a 1, invariato il numero di quelli ricoverati negli altri reparti covid, 319. Un anno fa, in questi giorni, in Emilia Romagna partiva un'impennata di ricoveri legata in buona parte ai focolai scolastici. Fermo restando che i paragoni tra varianti e situazioni diverse hanno i loro limiti. Dopo diversi mesi, i ricoveri totali del 2021 diventano in questi giorni inferiori a quelli del 2020. Il 14 ottobre dello scorso anno, in regione le terapie intensive erano 35, oggi 36, per poi salire a 49 il 15 ottobre. I ricoveri nei reparti covid erano 383, oltre 50 in più di oggi. Proseguono i controlli delle forze dell'ordine sul rispetto delle norme anticontagio e del green pass nei pubblici esercizi. Ieri sera la polizia locale ha chiuso per 5 giorni un pub nella zona delle cantinette Rimini per assembramenti con molti clienti intenti a ballare vicino alla console. A seguito invece di alcuni esposti sono stati controllati alcuni ristoranti nella zona sud di Rimini per verificare l'obbligo del possesso della certificazione verde per chi consuma all'interno. In un ristorante di Miramare un cliente che cenava dentro è risultato sprovvisto di green pass. Inevitabile la sanzione che va dai 400 ai 1000 euro sia a carico del ristoratore che dell'avventore. Restiamo ora nella cronaca. L'esplosione improvvisa di una stufa pelleta ha provocato diverso stione a un 58enne riminese residente a Vergiano. L'uomo attinto dalle fiamme in varie parti del corpo è stato soccorso intorno alle 13.30 dal personale del 118 che a sua volta allertati i vigili del fuoco arrivati in via Rodella per verificare e ripristinare le condizioni di sicurezza dell'immobile. Oltre all'ambulanza e all'automedica sul posto è atterrato l'elisoccorso da Ravenna per trasportare d'urgenza il ferito con ustioni in parte del corpo all'ospedale Bufalini di Cesena, ancora da chiarire le cause che hanno causato l'esplosione della stufa. Insieme per una città più umana, vivibile e accogliente è il messaggio che il vescovo Lambiasi ha posto al centro dell'omelia della messa celebrata in Basilica Cattedrale per San Gaudenzo, patrono di Rimini e della Diocesi. Con oggi ha preso avvio anche il cammino sinodale che sarà vissuto da tutta la Chiesa in Italia e nel mondo nei prossimi due anni. Ha segnato contemporaneamente l'inizio dell'anno pastorale del cammino sinodale la messa solenne per San Gaudenzo, patrono di Rimini e della Diocesi. È stata anche l'occasione per i fedeli di esprimere vicinanza e affetto al vescovo che pochi giorni fa ha festeggiato 50 anni di sacerdozio, gli ultimi 15 spesi a servizio della Chiesa riminese. A concelebrare tanti sacerdoti e diaconi provenienti da tutta la Diocesi. Alla processione che ha aperto la celebrazione anche i rappresentanti delle aggregazioni laicali e dei vicariati, segno di un cammino da compiere insieme. Come indicato da Papa Francesco, infatti domenica 17 ottobre il sinodo si aprirà in tutte le diocesi. A Rimini è iniziato con qualche giorno di anticipo, con la parola insieme che più volte è risuonata nell'Omelia del Vescovo. Insieme, per ricordare che lo Spirito Santo da solo non fa la Chiesa e neppure noi da soli facciamo la Chiesa. Solo lo Spirito Santo e noi facciamo la Chiesa. Quando ci troviamo di fronte a scelte rischiose e difficili, solo se ci lasciamo illuminare dalla luce dello Spirito e contagiare dalla sua forza coinvolgente, riusciamo a metterci non gli uni sopra gli altri, ma gli uni con gli altri. Non gli uni contro gli altri, ma gli uni negli altri. Non gli uni senza gli altri, ma gli uni per gli altri. Nell'ascolto reciproco riusciamo così a bypassare sia gli scogli dell'ottimismo ingenuo, sia quelli del pessimismo sterile. Insieme per contribuire alla crescita di una città che sia più umana, più abitabile, più respirabile, più vivibile. Una città che sia più accogliente e ospitale. Noi cristiani non possiamo, non vogliamo essere, non siamo indifferenti al bene comune della nostra città. Voltiamo pagina al TTG di Rimini, la fiera dedicata al turismo. L'Alta Valmarecchia si è aggiudicata al premio Destinazioni Aree Interne, ritirato dall'assessore regionale al turismo Andrea Corsini, che ai nostri microfoni ha parlato di un nuovo modo di fare vacanze in Emilia Romagna, toccando i luoghi che hanno dati natali a celebri registi e sceneggiatori, ma anche del tanto dibattuto Green Pass sui luoghi di lavoro. Ascoltiamo. Abbiamo anche questa fortuna di aver dato i Natali a Federico Fellini, Michelangelo Antonioni, Bernardo Bertolucci, Giovannino Guareschi, Pierpaolo Pasolini. Quest'altro anno, 2022, è il centesimo anniversario della nascita del grande regista intellettuale italiano. Abbiamo pensato, con la Cineteca di Bologna, di costruire dei percorsi, di costruire degli itinerari veri e propri che ripercorrono la vita e le geste di questi grandi registi, che sono conosciuti in tutto il mondo, sono conosciuti loro e sono conosciuti le loro opere. Abbiamo fatto un lavoro di costruzione di un prodotto turistico vero e proprio che abbiamo già iniziato a promuovere e che nei prossimi anni diventerà una parte importante della promozione turistica e dei piani dell'APT. Da venerdì entra in vigore il Green Pass anche sul lavoro. Teme magari anche nella nostra regione delle ripercussioni oppure no? No, non sono preoccupato, credo che sia giusto che sia stato previsto questo obbligo. Io mi ricordo che anche quando si iniziò a parlare del Green Pass all'inizio della stagione estiva c'era il timore degli albergatori di avere delle disdete. In realtà l'introduzione del Green Pass, l'obbligo del Green Pass, ha accelerato le prenotazioni perché la gente si sentiva più sicura e quindi ha prenotato le vacanze con più serenità. Riccione si prepara a festeggiare il 99esimo compleanno con un doppio appuntamento in programma nel fine settimana del 23 e 24 ottobre. Protagonista la musica, il servizio. A Riccione, che il 19 ottobre festeggia 99 anni dalla sua nascita, sarà un compleanno in musica. Musica come linguaggio capace di parlare a tutti con declinazioni diverse. Gli eventi ad ingresso gratuito saranno nel fine settimana del 23 e 24 ottobre. Il sabato pomeriggio con un contest è dedicato ai giovani artisti del territorio in Piazzale Ceccarini in collaborazione con la musicantiere, gioca musica e istituto musicale. Domenica sera la Sala Concordia del Palacongressi si riempirà delle note del premio Oscar Nicola Piovani con il concerto La musica è pericolosa. È un compleanno importantissimo perché è il meno uno al centenario, quindi è il primo grande evento che ci porterà a fare un anno di festeggiamento. Sarà un momento di ripartenza un po' per tutto perché si torna un po' alla normalità. Il 23 sarà prettamente per i nostri giovani. La musica permette loro anche di esprimere qualcosa che alle volte a voce non è così facile, quindi uno stato d'animo, un sentimento. Sarà un momento anche in modo particolare per i giovani per poter dedicare anche qualcosa alla loro città in occasione proprio del compleanno. Ci regaliamo il concerto di Nicola Piovani che credo veramente mantenga alta la tradizione dei nostri concerti. Ricordo solo gli ultimi, quelli di Bosso, di Allevi piuttosto che personaggi come Gino Paoli. È un nome conosciuto in tutto il mondo e così apriamo veramente ufficialmente il nostro anno del centenario che ci piace chiamare il meno uno. Dopo il compleanno partiranno una serie di appuntamenti che apriranno le celebrazioni del centenario. Siamo romagnoli, quindi ricionese comunque non festeggia il compleanno ma festeggia tutto l'anno e quindi sicuramente il centenario l'abbiamo pensato come una grande festa che dure davvero un anno intero. Una data successiva, quella del compleanno e che vedrà un momento molto importante per la città di Riccione tutta sarà proprio il conferimento l'8 dicembre del San Martino d'Oro. Questo premio che Riccione meritava già da tempo e da anni e che abbiamo istituito grazie proprio alla scusa, fra virgolette, del centenario. Per la festa del patrono San Gaudenzo purtroppo neanche quest'anno si è potuto organizzare la tradizionale tombola in piazza Cavour. La Croce Rossa, promotrice dell'evento, ha voluto però essere in piazza con un'altra iniziativa, una cittadella della salute dove i cittadini hanno potuto effettuare test e misurazioni su diversi parametri, oltre a conoscere le attività della Croce Rossa. Ne abbiamo parlato con la presidente della sezione riminese. Un'iniziativa che riguarda la prevenzione è un momento di festa che deve diventare un momento per la popolazione per vivere la prevenzione come qualcosa di cui non avere paura, ma associarlo alla salute. Quindi in piazza abbiamo varie postazioni in cui vengono effettuati il tampone, piuttosto che la misurazione della glicemia o della pressione arteriosa o dell'udito. Abbiamo approfittato per presentare anche le nostre attività riguardo al trasporto per esempio dei bambini in ambulanza e quindi con l'ambulanza dei pupazzi che è una metodologia che noi usiamo per abituare un po' i bambini a vivere delle situazioni che possono essere di stress con più consapevolezza e gioco. Abbiamo anche dal punto di vista della prevenzione l'ambito della formazione che è fondamentale e quindi una postazione con tutti i manichini da rianimazione, con la presenza degli istruttori e dei monitori. È un punto in cui si parla di addestramento della popolazione e anche del cittadino nelle scuole e nelle aziende. Molta partecipazione devo dire per essere un argomento così apparentemente lontano dalla festa e invece hanno accolto questa proposta di Croce Rossa che speriamo sia la prima edizione di tante altre. Grazie per essere stati con noi e a tutti voi l'augurio di una buona serata. Grazie per aver guardato il video.